Si assesta sugli 8.689.000 euro il bilancio preventivo approvato martedì sera dal Consiglio Comunale di Villa Dossola, favorevole alla maggioranza, contraria alla minoranza. Meno entrate, tasse imposte congelate, investimenti in opere pubbliche. L'assessore alle finanze Alberto Lepri ha evidenziato i tagli più significativi, 13.000 euro in meno sui trasporti scolastici, 94.000 in meno sui costi per le utenze e il risparmio di 22.000 euro sull'illuminazione pubblica. La gestione della fabbrica è arrivata pressoché in parità, mentre anche la macchina comunale è passata dai 50 dipendenti del 2010 agli attuali 36. Il sindaco Marzio Bartolucci ha rimarcato l'azione decisa condotta sull'emorosità delle case popolari ATC, mentre l'assessore ai lavori pubblici Fausto Piolanti ha sottolineato i 720.000 euro di investimenti in atto per strade, scuole e illuminazione. Per il capogruppo di maggioranza Carlo Squizzi si tratta di un bilancio che ha visto sacrifici in un contesto già difficile per la mancanza di lavoro, con un forte impegno sulle opere pubbliche, nonostante il rammarico di non essere riusciti a portare avanti un progetto di valorizzazione della Chiesa del Piaggio. Poi ha sostenuto che il trasferimento della biblioteca alla gestione e l'appalto dello stadio Pocio hanno permesso importanti risparmi sulle utenze. Critica la minoranza che ha votato contro. Il capogruppo Bruno Toscani ha ricordato il peso delle tasse sui villesi. Siete arrivati ad un milione di euro incamerati, ha detto. Quindi ha attaccato l'assessore Piolanti sulle opere pubbliche, sul posteggio rampa di lancio del cimitero, sui lavori che hanno ristretto Via Toce e soprattutto il fatto che l'assessore si sia attribuito sui giornali il merito dell'intervento sul sito megalitico di Varchignoli, quando si sa bene che i lavori sono stati appaltati dall'Unione Montana e che il Comune di Villa ha solo visionato il progetto. Poi ha denunciato il fallimento della Polizia Locale dell'Unione con la conseguente assenza di vigi urbani sul territorio comunale e lamentato i costi elevati del servizio di cattura e custodia dei cani randaggi.